Bilaterale Italia-Romania tra il ministro Terzi e il suo omologo Diaconescu. L'incontro il 27 marzo alla Farnesina è stata l'occasione per ribadire l'eccellente stato delle relazioni politiche ed economiche, anche grazie alla recente decisione italiana di abrogare le restrizioni alla libera circolazione dei lavoratori subordinati romeni. Le questioni che interessano più da vicino sono proprio quelle che riguardano la grande comunità romena in Italia, un milione di persone, così come la grande comunità di imprenditori di uomini d'affari italiani in Romania, un gruppo straordinario di 31.000 imprese che sono attive. In entrambi i casi, su questi due versanti, si tratta di una realtà che contribuisce in modo fondamentale allo sviluppo dell'economia ed è perfettamente integrata nella società dei rispettivi paesi. Forte sintonia fra i due paesi anche in ambito UE. I due ministri hanno discusso dell'adesione della Romania allo spazio Schengen, appoggiata dall'Italia, e della proposta romena di una conferenza a livello europeo su razzismo e xenofobia. What we considerate to be extremely important is to underscore that this issue of discrimination, this attitude of being extremist with regard to some people taking into account their cultural, religious, gender identity should be considered seriously, even from the political point of view, because it is addressing in a negative way the values and standards of Europe. So this is our own request.